Alluvione approvato lo stato d'emergenza 2 giugno la festa della repubblica sarà festa di popolo Via al primo simposio stili di vita sostenibili Gli studenti del Benelli incontrano la figlia di Aldo Moro Italservice il match salvezza si gioca alla Vitri Frigo Arena Buonasera a tutti voi pubblico di Rossini TV Ben ritrovati a Rossini News Il nostro spazio informativo del canale 80 Che in questa edizione di martedì 23 maggio Apriamo con gli sviluppi sulla situazione alluvione Non solo l'Emilia Romagna Anche la provincia di Pesaro Urbina è stata inserita oggi dal decreto Legge maltempo licenziato dal Consiglio dei Ministri Si aprono però percorsi diversi con il nostro territorio Che attende di conoscere l'entità degli aiuti Verso una corposa conta dei danni che è ancora da quantificare del tutto Il Consiglio dei Ministri ha approvato oggi il decreto legge maltempo con le misure d'emergenza per l'Emilia Romagna Per quanto riguarda invece le Marche La dichiarazione dello stato d'emergenza e i provvedimenti conseguenti sono ancora in istruttoria Domani i tecnici della protezione civile nazionale arriveranno per la verifica dei danni Insieme alla Regione Marche che indicherà i comuni colpiti Il provvedimento potrebbe poi concretizzarsi nel successivo Consiglio dei Ministri di giovedì Proprio sulla concessione dello stato d'emergenza anche alla provincia di Pesaro Il sindaco di Pesaro Matteo Ricci già nel Consiglio Comunale di ieri Aveva ricevuto buone garanzie dal governo Meloni Sull'onda di dati oggettivi di una conta di danni con 160 segnalazioni di privati Per un importo di circa 10 milioni di euro Il Comune è già dovuto intervenire con eventi di somma urgenza del valore di 200 mila euro E ho anche cercato in quei giorni di tenere alta l'attenzione su Pesaro Anche l'attenzione mediatica perché è ovvio che rispetto al dramma emiliano-romagnolo Noi rischiavamo di sparire Negli ultimi giorni ovviamente siamo spariti perché noi siamo fuori dell'emergenza E la Romagna purtroppo ancora no Ma voi capite che noi abbiamo anche rischiato di avere i danni E di non apparire neanche come un territorio danneggiato Visto quello che sta fatto Perché noi abbiamo bisogno di risorse sia per i danni pubblici che per i danni privati Da soli non ce la possiamo fare Se voi pensate di moltiplicare quello che è successo a Pesaro nei comuni della provincia Parliamo di centinaia di milioni di danni E la conta dei danni allargata al territorio provinciale è ben dipinta dalla situazione della viabilità Che il presidente della provincia Paolini e il prefetto Emanuela Greco hanno tracciato questa mattina Noi abbiamo avuto circa, così, da una prima stima sulle strade provinciali circa più di 10 milioni di euro di danni Però ancora le frane sono in lento movimento, ancora c'è qualche frana che scende Bisogna aspettare ancora qualche giorno che si acciughi per fare una stima reale Ma comunque non saranno meno di 10 milioni di euro per renderle transitabili e praticabili I danni sono tanti, le strade purtroppo ci sono tante frane Alcune continuano il movimento franoso e quindi questo ci preoccupa un po' Però è tutto monitorato Diciamo che noi ci siamo, siamo qui assolutamente pronti per qualsiasi cosa Speriamo ovviamente che non ci sia più bisogno di nulla Le principali forze di polizia della provincia di Pesero Urbino si sono riunite oggi nella prefettura Per presentare la prossima festa della Repubblica in programma venerdì 2 giugno Una ricorrenza che per il prefetto Emanuela Greco sarà una festa di popolo in cui chiamare a raccolta l'intero territorio Non solo cerimonia militare, non solo autorità civili e istituzionali Il prossimo venerdì 2 giugno la festa della Repubblica vuole essere festa del popolo e festa della gente Lo ha fortemente voluto il prefetto Emanuela Sevaerea Greco Che alla sua prima celebrazione chiama a raccolta l'intero territorio ad onorare l'ordinamento decretato dal referendum del 1946 Sarà festa in musica con canti e balli che coinvolgeranno gli istituti Volponi e Pascoli di Urbino Mi auguro che sia veramente una bella festa di piazza, di pubblico perché la Repubblica siamo tutti La Repubblica siamo tutti noi e io sottolineerò ognuno di noi cosa fa per la Repubblica Perché abbiamo esempi bellissimi in provincia di enti, di istituzioni che fanno veramente bene il loro lavoro Quindi è giusto che si sappia e sia dato loro il rilievo che meritano Nella cerimonia saranno conferiti 21 riconoscimenti fra onorificenza al merito della Repubblica, medaglie d'onore e medaglie di bronzo al valore civile Una festa del 2 giugno che vede come motore organizzativo l'esercito col 28esimo reggimento Pavia che ha realizzato anche il manifesto dell'evento Siamo abitati a cerimonie un po' troppo formali, la cerimonia fa riferimento alla festa della Repubblica La festa è la festa del popolo, non è la festa solo delle istituzioni, non è un momento solo formale È giusto che ci sia un momento di sana popolarità ed è quello a cui contribuiremo anche distribuendo bandierine a tutti gli intervenuti In particolare ai bambini che arricchiranno sicuramente la coreografia con un momento di allegria, non solo un momento istituzionale I giovani saranno al centro della cerimonia, dagli studenti ai circa 300 volontari che si stanno rimboccando le maniche per riparare ai danni dell'alluvione Quest'anno ha un sapore diverso chiaramente perché ci sono a Pesaro oltre 300 volontari che hanno dato disponibilità per aiutare le persone in difficoltà che hanno bisogno e in questo momento alcuni di loro stanno spalando fango e aiutando a liberare cantine immobili invasi dall'acqua E questa giornata è dedicata anche a loro perché si percepirà ancora più densa e ancora più forte la grande solidarietà che permea nel nostro paese che quotidianamente viene spesa per le persone che hanno bisogno e che in questa giornata dobbiamo assolutamente ricordare e celebrare Quindi abbiamo invitato e inviteremo i 300 volontari che hanno dato disponibilità confidando nella loro presenza perché a loro va il ringraziamento in particolare in questi giorni Le tematiche ambientali spesso traumatiche e catastrofiche come nell'ultimo periodo entrano a pieno titolo nell'agenda di Simposio Stili di Vita Sostenibili un nuovo evento che il Comune di Pesaro ha inaugurato questa mattina e che durerà una settimana Dal 22 al 31 maggio Pesaro si tingerà di green con la prima edizione di Simposio Stili di Vita Sostenibili Una serie di incontri, presentazioni e azioni a sostegno dell'ambiente che si svilupperanno in diverse aree della città Tra Parco Miralfiore, Monte San Bartolo, Spazi del Municipio, Villa Caprile, Biblioteca Brail e Piazzale della Libertà emergeranno i valori di conoscenza e buone pratiche a tutela dell'ambiente Taglio del nastro dell'iniziativa avvenuto questa mattina proprio al Parco Miralfiore con la partecipazione degli alunni di Quarta A della Scuola Primaria di Villa San Martino Alunni e ragazzi tra i principali destinatari di questa iniziativa Questa è una prima attività, come ho sempre detto, in cui raccontiamo la sostenibilità da parte di tutte le realtà che vivono la nostra città quindi le buone prassi dell'amministrazione, in particolare domani abbiamo le scuole che fanno attività concreta e avremo tutte le associazioni, tutti i portatori di interesse domani abbiamo la presentazione delle prassi virtuose degli enti locali quindi parlerà anche l'ufficio ambiente perché noi abbiamo iniziato alcune strategie importanti come la strategia Fiver che è stata presentata settimana scorsa in Commissione Ambiente è veramente un qualcosa di pianificatorio e strategico per la nostra città che darà degli strumenti amministrativi molto importanti anche per affrontare la questione della gestione dell'acqua e del distesto idrogeologico in particolare in riferimento alla gestione dell'acqua e le aste fluviali il 25 giovedì mattina, maggio, si parlerà proprio di questo con anche qui gli stakeholder, quindi Consorzio di Bonifica, Lata e tutti coloro che gestiscono l'acqua nel nostro territorio però il momento clou, infatti volevo proprio sottolinearlo è quello del 31 maggio mattina anche con le conclusioni del nostro sindaco che è anche presidente di ALI, come noi sappiamo assieme alla rete dei comuni sostenibili perché Pesaro ha iniziato questo percorso e anzi uno dei fondatori di questo percorso con la presentazione del monitoraggio volontario che è anche questo uno strumento molto importante per spiegare se e come una città può essere sostenibile questo simposio, come ho detto più volte è rivolto a tutte le realtà che compongono una città questa è una città che si inserisce pienamente nel percorso di resilienza e di rinascita del PNRR e questo riguarda anche ovviamente il nostro tessuto produttivo e ieri abbiamo fatto un bellissimo convegno dove abbiamo coinvolto Confindustria e l'ordine dei commercialisti perché anche quella è una realtà importante che chiede all'amministrazione di essere presente nella transizione ecologica, energetica e digitale A Pesaro i 100 alunni della scuola di infanzia Scarabocchio di Via Rigoni si spostano temporaneamente in Viale Trieste 391 per consentire la realizzazione del polo dell'infanzia da 0 a 6 anni nella stessa area di Soria i lavori partiranno infatti a luglio e dureranno due anni grazie ai 3.700.000 euro di fondi PNRR destinati a demolizione e ricostruzione di questo polo scolastico all'avanguardia nel frattempo il comune si sobarcherà i 18.000 euro annui di affitto dell'ex scuola infermieri di Viale Trieste l'ospice di Fossombrone, il giardino del Duca raddoppirà i suoi posti letto passando da 10 a 19 si tratta di una struttura che ogni anno accoglie 200 pazienti relative famiglie ma con l'ampliamento previsto riuscirà ad ospitare anche pazienti non oncologici in particolare persone affette da malattie neurodegenerative come la SLA in questo modo non sarà più solo un luogo dove passare gli ultimi giorni di vita ma un posto dove affrontare i momenti di criticità per poi tornare una volta superati ai propri domicili ed ora lo spazio dedicato alle vostre segnalazioni che come sempre vi invitiamo a inviarci al numero whatsapp dedicato 370-366-7210 un nostro telespettatore di Novilara ci segnala come farà richiesta a Marche Multiservizi dell'installazione di telecamere di videosorveglianza per quel che riguarda i cassonetti situati in strada dei Guazzi reputata a suo dire luogo in cui vengono puntualmente scarichiati i rifiuti da non residenti anche del comune di Fano e spesso depositati fuori dai cassonetti una segnalazione che noi stessi di Rossini TV rigireremo alla stessa Marche Multiservizi per vigilare sul corretto conferimento dei rifiuti il volontariato dei giovani sarà in prima linea nella costruzione del percorso di Pesaro 2024 e questo è il senso del progetto visibilia promosso dal CSV Marche e presentato al cantiere Rossini nelle weekend appena trascorso il servizio di Paolo Pagnini che state per vedere ci offre qualche anticipazione di un argomento che sarà poi approfondito da uno speciale di Rossini TV che andrà in onda giovedì 25 maggio alle ore 20.10 amiche e amici di Rossini TV oggi siamo al cantiere Rossini a Pesaro per una giornata importantissima è una giornata intitolata visibilia, volontariato e cultura una manifestazione ideata dal CSV Marche e dalla delegazione del CSV provinciale per fare una sorta di call per chiamare le associazioni di volontariato e verificare con loro la disponibilità di progetti in vista di un coinvolgimento in Pesaro 2024 direi che è un'occasione imperdibile per tutto il mondo del volontariato del terzo settore in generale appena abbiamo saputo di questa possibilità del fatto che Pesaro si era conquistata a giusto titolo la possibilità di fare la capitale italiana della cultura abbiamo pensato subito a come coinvolgere tutto il nostro mondo questa assemblea è il modo con cui noi lo facciamo scriviamo insieme una pagina bianca coinvolgiamo tutti parliamo di cosa potremo fare e da qui poi capiremo come si sviluppa il progetto sulla base di quello che insieme decideremo si parte oggi e non si finisce il 31 dicembre 2024 no speriamo proprio di no noi cominciamo un percorso che non sappiamo dove ci porta che governeremo speriamo nella maniera migliore e poi tutto quello che viene costruito credo nel 2024 in tutta la città di Pesaro in tutta la provincia di Pesaro sarà un patrimonio che poi come dice il sindaco Ricci andrà ad arricchire quella che è la nostra comunità il terzo settore è una grande opportunità un braccio operativo del nostro sistema paese del nostro sistema comunità e nel 2024 ci sarà una nuova forma di volontariato che proporremo, che abbiamo proposto che è quella del volontariato culturale un po' diversa ma un'altra grande opportunità per coloro che vogliono vivere questa grande occasione della capitale italiana della cultura in maniera attiva da protagonisti e non da spettatori quindi collegatevi al sito pesaro2024.it e date la vostra disponibilità nelle prossime settimane inizieremo a convocarvi a chiedervi come costruire questo percorso in occasione della capitale italiana della cultura oggi sono giornate queste sono giornate anche molto difficili ma caratterizzate anche qui dal grande senso di umanità di questa comunità abbiamo fatto una chiamata a tutti coloro che volevano dare una mano dare disponibilità per dare una mano alle persone che avevano bisogno per l'alluvione abbiamo ricevuto ad oggi più di 230 richieste di disponibilità per andare a spalare fango e aiutare le persone in difficoltà questo ci rende molto orgogliosi ci commuove non ci aspettavamo tutta questa adesione ciò rappresentare che la cultura del volontariato sociale è tutto quello che fa il CSV e tutti gli enti, le associazioni, i soggetti che ruotano per e con il CSV stanno facendo un ottimo lavoro ed ora ci occupiamo di scuola in particolare dell'Ipsia Benelli di Pesaro che ha incontrato nei giorni scorsi la preziosa testimonianza di Agnese Moro figlia dello statista italiano Aldo Moro conoscere e comprendere le storie umane e personali dietro la grande storia italiana vivere il senso più profondo della legalità dalla voce di chi in nome di Stato e legalità ha visto sacrificati gli affetti più cari il 20 maggio nell'auditorium dell'Università dell'Eta Libera L'Ipsia Benelli ha accolto Agnese Moro figlia dello statista italiano Aldo Moro rapito e ucciso nel 1978 con lei anche Giovanni Ricci figlio di Domenico Ricci uno degli agenti di scorta ucciso nella stessa strage romana di Via Fani un toccante incontro organizzato dai professori Scatigno, Iacobis, Virgilio e Bocchicchio capaci di attraversare storia, politica e cronaca giudiziaria passando per sentimenti come dialogo, memoria e perdono è una missione quella di Agnese Moro quella di non derubricare la figura di suo padre all'immagine del corpo esanime, icona degli anni di piombo ma tracciarne la figura umana, il padre l'uomo profondamente dedito alla sua carica istituzionale cioè io non mi ricordo nessun giorno in cui lui non abbia lavorato Natale, Pasqua, Domenica c'era sempre qualche cosa comunque al di là della festa qualcosa da fare Da anni Agnese Moro ha scelto di non rilasciare interviste a stampa e tv Giovanni Ricci invece ai nostri microfoni ha così applaudito la bontà dell'incontro al Benelli accompagnato per l'occasione da musica e coro diretto dal professor Luigi Mariotti Vedere tanti ragazzi che sono qui oggi a raccontarci a permettere di raccontare a loro che cosa sono stati gli anni di piombo ma non solo, che cosa sono stati quegli uomini soprattutto non quei momenti tragici ma la vita di quelle persone e vedere come i ragazzi assorbano questi nostri racconti ecco, questo fa veramente piacere perché le nuove generazioni sono il futuro del nostro paese e a loro va lasciato un segnale forte che la violenza non porta da nessuna parte va lasciato un segnale forte di come con il dialogo si possano risolvere tanti conflitti e ringrazio l'Istituto Benelli per questa continua e importante manifestazione d'affetto nei nostri confronti ma nelle manifestazioni d'affetto anche nei confronti della memoria dei nostri cari che non ci sono più ma che ci permette incontri come questo di raccontare chi erano, chi fossero come hanno vissuto e non ridurre l'intera loro esistenza solamente al giorno in cui purtroppo sono venuti a mancare quello che appunto ci interessa è che i ragazzi tocchino con mano quello che è la storia perché così oltre alla mente attivano anche il cuore perché certe storie raccontate dal punto di vista proprio umano non possono che non toccare il cuore e quando si impara anche quel cuore sicuramente saranno dei ricordi praticamente indelebili perché dietro ogni evento storico purtroppo in questo caso un periodo bruttissimo della nostra storia lo stragismo, il terrorismo ma dietro tutto questo c'erano delle persone e queste persone avevano dei figli e la testimonianza dei figli è importante per quello che è significato appunto per loro aver perso appunto un genitore per questi motivi che poi per carità ognuno combatteva per gli ideali però certamente Moro e i suoi compagni di viaggio così come li abbiamo appunto definiti ha difeso lo Stato ha difeso la democrazia lo Stato però non ha difeso lui e quello è stato un po' il punto della situazione Questi incontri ci permettono di vivere la storia non solo per quello che studiamo nei libri sui banchi di scuola non c'è un professore a raccontarcela ma c'è una testimonianza vera e propria ci sono figli che hanno visto i loro padri compiere quelle determinate azioni e purtroppo venire a raccontare la loro storia per impedire che non rimangano semplicemente un nome in un libro di storia o una sorta di immagine storica ma che rimanga un ricordo proprio vivo di una persona Aldo Moro non era solo sicuramente stato grande politico italiano ma era anche una persona e l'incontro di oggi lo dimostra dai racconti di sua figlia stessa che fa trasparire come non fosse un super uomo non fosse un super eroe invincibile ma era una persona come tutti quanti noi che ha avuto però il coraggio di combattere di agire contro cose sbagliate invece di fregarsene e continuare a vivere la sua vita spero veramente che queste cose si continuino a fare non vengano perse nel tempo e vengano sempre di più coinvolti studenti i ragazzi sono il fulcro fondamentale di questi eventi insieme alle testimonianze ma le testimonianze vengono per raccontare ai studenti e per impedire che queste cose vengano dimenticate dopo il rinvio causa maltempo della scorsa settimana questa sera alle 21.15 a Villa Guerini le Limonaie di Moraglia si terrà la presentazione di un nuovo romanzo che ha già conquistato decine di lettori si tratta della Solitudine del mare romanzo narrativo a sfondo filosofico che segna l'esordio dell'autore Giulian Sozio il giornalista di Rossini TV Paolo Pagnini guiderà il pubblico attraverso i racconti dell'autore le letture interpretate da Alessandra Giardina la proiezione di suggestive immagini e la riproduzione di melodie citate nella storia alla scoperta del mondo nel quale vivono i protagonisti del romanzo concludiamo il nostro notiziario con nello sport e in particolare con il calcio a 5 l'Ital Service è infatti alle prese con la settimana da dentro o fuori della sua stagione vinta la data play out in Sardegna a sabato 27 maggio c'è il decisivo ritorno a Pesaro che per l'occasione si giocherà nella cornice della Vitrifrigo Arena come annunciato tra l'altro questa mattina dal presidente Lorenzo Pizza all'interno della conferenza stampa tenutasi al caffè gastronomico Gemelli di Borgo Santa Maria è una novità molto intrigante molto molto intrigante molto molto bella da parte nostra perché comunque a causa dell'indisponibilità del Palafiera in quanto ci sono dei campionati di ginnastica così abbiamo pensato di giocare abbiamo chiesto la disponibilità per giocare al Vitri perché avevamo poche opzioni in quanto potevamo giocare a Fano alla Trave ma il campo non è consono diciamo il palazzetto per una partita così importante perché è il ritorno dei play out per la permanenza in Serie A noi giochiamo sabato alle ore 17 e l'invito chiaramente è quello di venire a vedere questa partita anche perché al di là del gradimento dello sport è anche un'occasione un'occasione per vedere una manifestazione così bella così importante per vedere il calcio a 5 nell'arena del basket e una parte dell'incasso metteremo dei biglietti minimi quindi una quota molto popolare mi pare adesso comunque lo comunicheremo comunque dovrebbe essere 5 euro per gli adulti e 2 euro per i bambini una parte e insieme anche al comune di Pesaro lo vorremmo destinare agli alluvionati o dell'Emilia Romagna o di Pesaro adesso quello lo decideremo insieme al comune io chiaramente in Ario e in tutta la VL ho sempre trovato una società e una disponibilità illimitata quindi io al di là di quello che c'è stato del passato magari non ci siamo trovati per vari motivi però io quello che ho detto devo sempre e solo ringraziarli perché mi hanno sempre aiutato quando c'è stato bisogno mi sono venuti sempre incontri quindi assolutamente sì c'è sempre c'è sempre stata c'è e ci sarà una grande collaborazione tra l'Ital Service e la VL con la società di Lorenzo Pizza abbiamo sempre avuto un ottimo rapporto continuiamo ad averlo cercare di al di là dei rapporti personali che sono ottimi cerchiamo di capire se si potesse utilizzare anche il pala pizza il pala vitifrigo per loro sarebbe una bella cosa ma è ovvio che questo non dipende da noi dipende da un'amministrazione dipende da 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 una gestione da una gestione della struttura che ripeto indipendentemente dal nostro volere inizia il secondo tempo altri 40 minuti siamo in vantaggio di un gol ma ecco pensare a questo sarebbe riduttivo perché dobbiamo affrontare appunto tutti i 40 minuti ma palla su palla in maniera totale perché comunque è una partita di vitale importanza non si assegna un titolo ma si assegna la permanenza della categoria che per la società e per la città per i tifosi è tutto posso ringraziare Fulvio Colini per questi due anni appunto di collaborazione e ringrazio la società per la fiducia che mi ha dato per affrontare appunto queste due partite fondamentali per la società stessa quindi lo prendo con orgoglio con responsabilità e determinazione nel futuro stiamo costruendo una una stiamo costruendo una squadra e molto ben strutturata in base quello che ho sempre detto in base alle nuove regole e ai nuovi regolamenti che ci ha imposto positivamente lo uso come termine positivo la divisione noi chiaramente abbiamo la fortuna o la bravura di aver costruito un settore giovanile importantissimo molto florido e quindi ora di aprirlo aprire questo settore giovanile e incominciare a far giocare insieme e affiancando tanti senatori che comunque rimarranno oriundi e formati in cominciare a affiancare giovani interessanti la rivoluzione a livello societario comunque non più di tanto la stabilità verrà mantenuta perché come ho detto non c'è più il presidente Lorenzo Pizza ma Lorenzo Pizza è qui e non molla assolutamente il CDA quindi non ci saranno ribaltoni forse ecco diciamo che il ribaltone più grosso è stato fatto quest'anno possiamo dire usiamo un termine un iperbole abbiamo toccato il fondo adesso si riparte il fondo l'abbiamo toccato adesso da qui si riparte perché la struttura per ripartire c'è quindi da qui in avanti riparte la salita per cercare di arrivare un'altra volta alla vetta si conclude qui questa nostra edizione delle telegiornale Rossini News ma prima di salutarci vi ricordiamo i programmi della nostra serata in questo martedì 23 maggio particolarmente dedicato al mondo del lavoro e al mondo aziendale infatti alle 21 e 20 vi proporremo il nostro speciale riguardante macchini ceramiche con un viaggio all'interno di una importante attività del territorio proprio come è l'azienda macchini a seguire alle 21 e 40 andremo invece a conoscere Stilfar Italia azienda che ha compiuto 40 anni appuntamento alle 21 e 40 e ancora alle 22 torna il programma storie il meglio il meglio di storie con i racconti di successo nella provincia di Pesero e Urbino racconti di successo in questo caso anche in questo caso di imprenditori ovvero Vittorio Livi potrete conoscere appunto la sua storia questa sera alle 22 e poi le repliche giovedì alle 15 e 15 sabato alle 21 e domenica alle 12 e poi come sempre l'informazione su Rossini tv torna puntuale domattina alle 7 e 20 come sempre in diretta con la consultazione dei quotidiani locali in occasione di Buongiorno Rossini e invece si conclude qui questa edizione di Rossini News da parte mia e di tutta la redazione vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento di serata in compagnia dei nostri programmi di grazie